Quando è arrivato il momento per te di diventare un mago, portare il mondo, l'hai fatto. Ma qualcosa lungo il tragitto ti ha fatto cambiare. Non sei esistito più. Hai permesso al primo fisso che arrivava di farti dire che non eri bravo. Ora ti dirò una cosa scusa. Guarda che il mondo non è tutto, Rosso e Fiori. È davvero un po' scarico, misero e sporco. E per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi. E se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglio. I migliati fanno così e tu non lo sei. Non lo sei affatto. Insistere la forza. Insistere la forza. Quanto il lupo si sveglia e le peccare vanno a dormire. Questa è la legge della giungla, l'ho fatta io. Affottete!